Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Il mio nome è Massimiliano Coniglio e sono un travel photographer italiano. Nella puntata di oggi andremo a sviluppare una fotografia che ho recentemente scattato a Parigi all'esterno del Museo Torsei, avendo una bellissima scultura sulla sinistra e creando un dramatic black and white utilizzando il mio workflow del bianco e nero che avete già visto negli episodi precedenti. Quindi se ancora non l'avete studiato, vi suggerisco di andarvi a guardare gli episodi precedenti relativi al dramatic black and white, andare a capire come funziona l'utilizzo dei filtri graduati di tipo circolare o di tipo lineare all'interno di Lightroom o se utilizzate Photoshop va benissimo lo stesso. Grazie sempre a tutti per l'interesse che hai mostrato al canale. Ragazzi vi ricordo sempre di condividerlo con i vostri amici sui vostri social network, di parlare il più possibile, solamente dopo cinque mesi siamo già quasi a mille iscritti, di settimana in settimana rilascerò un nuovo video, quindi proponetemi argomenti che ritenete interessanti come ad esempio quello della scorsa settimana relativa al teal and orange look tipico di Instagram. E niente ragazzi, seguitemi in questo nuovo progetto, andiamoci a divertire con l'immagine di oggi. Vi ricordo sempre di scattare in bracketing se volete avere la possibilità di utilizzare tutto il range dinamico della vostra macchina fotografica, oppure se avete una buona full frame potete partire da un scatto singolo come ad esempio quello del progetto di oggi e andare a recuperare le ombre in maniera molto significativa senza introdurre rumore. Il segreto chiaramente è quello di scattare a ISO bassi ragazzi, va bene? Ok, prima di entrare all'interno del nostro catalogo Lightroom volevo darvi qualche informazione personali relative alle mie pagine, a come contattarmi e al mio sito internet dove è possibile anche prenotare il mio fototour che sto attualmente organizzando in Germania ragazzi, va bene? Vi ricordo sempre di provare diversi tipi di lenti, mi hanno chiesto molti su Instagram che tipo di lenti utilizzo per i miei viaggi. Io ho un mio travel kit che comprende di solito un grande angolare, un 50 mm fisso e un 70-200 che potete vedere che è qui. E se scattate con un lente di questo genere vi consiglio sempre di essere sul cavalletto, se utilizzate delle ottiche stabilizzate disattivate lo stabilizzatore dell'immagine per evitare del micromosso all'interno della vostra immagine. Molti mi hanno chiesto cosa ne penso del Tamron nuovo 70-200 il G2 che è esattamente questo che ho adesso in mano, ragazzi questa è una lente favolosa quindi se avete la disponibilità del budget e volete comprare un buon 70-200 vi consiglio vivamente di provare il nuovo Tamron G2. Cos'altro? Bene ragazzi andremo adesso a sviluppare questa nuova immagine che ho scelto per voi, spero che il progetto di oggi vi piaccia, lasciate un commento sotto questo video, condividetelo e sempre di più formeremo un gran bel gruppo. Adesso stop alle chiacchiere e andiamo direttamente a lavorare all'interno di Lightroom. Seguitemi! Ok ragazzi, come sempre vi ricordo che potete contattarmi attraverso il mio feed Instagram Massimiliano C. Fotografi. All'interno trovate tutta una serie di immagini che ho scattato durante i miei ultimi viaggi ma anche quelli un po' passati. Trovate il link al mio canale YouTube che ormai tutti conoscete che è nato solamente da pochi mesi. Se volete avere un photo review quindi se volete che dia uno sguardo alle vostre immagini su Instagram non dimenticate di taggarmi con l'hashtag Massimiliano C. Fotografi. Vi trovate anche su Facebook, questa è la mia pagina Facebook con molti di voi ci sentiamo qui su Facebook. Ragazzi contattatemi, iscrivetemi se avete bisogno di qualche consiglio e cerco sempre di rispondere a tutti nel modo più veloce possibile. Se qualcuno fosse interessato a guardare le mie immagini o all'acquisto di qualche stampa può andare a visitare la mia pagina ufficiale www.massimianoconiglio.com All'interno trovate la sezione del My Travel Photography. All'interno della sezione My Travel Photography trovate le due sezioni relative a Urban Photography e Natural Landscapes e qui potete dare un'occhiata a tutti i miei più recenti scatti e nella sezione Book Online trovate tutte le informazioni relative al mio photo tour che sto attualmente realizzando in Germania. Se qualcuno di voi si trova dalle parti di Colonia, di Bonn e vuole unirsi a me per un photo tour della durata circa di due ore e mezzo con tante altre persone, con un gruppo davvero carino, gruppi internazionali, il photo tour è completamente in inglese però chiaramente ragazzi se ci siete voi italiani è chiaro che si parla italiano, contattatemi quindi e vi darò tutte le informazioni necessarie. Adesso entriamo nel catalogo Lightroom e andiamoci a divertire con il progetto di oggi. Eccoci qui ragazzi all'interno del nostro catalogo Lightroom e in particolar modo all'interno del modulo sviluppo del nostro Lightroom. Per l'immagine di oggi andremo a sviluppare utilizzando il mio workflow del Dramatic Black & White questa immagine che ho scattato come vi dicevo prima nel video a Parigi all'esterno del museo e mi piaceva perché c'era questa scultura con questo rinoceronte qui su due terzi e l'ingresso del museo con questa architettura abbastanza carina e interessante da poter fotografare. Per prima cosa cosa andiamo a fare? Beh, vogliamo realizzare un bianco e nero quindi se ormai conoscete il mio workflow la prima cosa che vado a fare è selezionare in Lightroom l'opzione Black & White quindi bianco e nero. In questo modo Lightroom andrà a desaturare la fotografia. Un piccolo consiglio ragazzi. Quando scattate fotografie di architettura urbana ad esempio al tramonto o all'alba o comunque quando siete in una situazione di leggera controluce come in questo caso perché il cielo qui era particolarmente più, diciamo, bright, quindi più luminoso rispetto alla parte di foreground quello che io di solito faccio è vado a sottoesporre l'immagine di più o meno ad esempio un terzo di stop. Ok? Perché questo? Perché scatto con una buona full frame o a disposizione un raw file abbastanza pesante che contiene tantissime informazioni sia nelle ombre sia nelle luci quindi andando ad aprire le ombre, soprattutto avendo scattato ISO 64 come vedete qui da tetti di scatto non introduco rumore, non ho problemi ad aprire le ombre in maniera significativa. Se invece vi trovate a scattare con ad esempio una APS-C o con uno smartphone questo non ve lo consiglio, magari provate a scattare tre esposizioni in bracketing a più o meno due stop in modo tale da avere tutto il range dinamico della vostra macchina fotografica a disposizione per poter lavorare ad esempio creando un HDR. D'accordo ragazzi? Quindi fate delle prove. Se avete una buona macchina fotografica scattate questo tipo di architettura urbana esponendo per le alte luci, quindi in inglese si dice di esporre per i highlights quindi vi consiglio sempre di esporre per le alte luci non vi preoccupate se la parte di foreground davanti a voi verrà sottoesposta perché comunque dopo in post-produzione potete aprire le ombre e andare a recuperare tutti i dettagli. In che modo? Beh ragazzi, guardate un po' qui. Io ho scattato con una Nikon D810 quindi una buona macchina fotografica, un RAW file abbastanza corposo se vado ad aprire le ombre ad esempio a più 100 guardate un po' come riesco a tirar fuori tutte le informazioni nascoste e allo stesso modo riesco a mantenere i dettagli qui nel cielo. Se vado giù con gli highlights potete vedere come manteniamo i dettagli qui nel cielo e la foto risulta ancora equilibrata e non abbiamo introdotto assolutamente rumore avendo scattato soprattutto a ISO 64. Quindi tenetevi sempre a ISO bassi magari ISO 100, ISO 200 e poi andate a giocare aprendo le ombre in maniera significativa e andando giù con le alte luci. Se scattate con una PSC o con uno smartphone non vi consiglio di utilizzare questa tecnica di andare a più 100 e meno 100 mantenetevi ad esempio su valori di più 80 e meno 80. D'accordo? Continuiamo il nostro workflow andando a lavorare sui bianchi tenendo premuto il tasto alto della tastiera vi spostate verso destra fino a quando vedete i primi pixel che compaiono sul vostro schermo lasciate tutto, facciamo la stessa cosa con i neri, ci spostiamo verso sinistra e così già abbiamo una foto che risulta particolarmente contrastata. Aumentiamo la chiarezza, mi mantengo sul valore più o meno intorno a 25 aumentiamo il contrasto, anche qui per il momento mi mantengo intorno a 20 ma magari per i bianchi non tantissimo manteniamoci sul valore più o meno, ecco così, magari più a 60 e per il momento col pannello base abbiamo finito andiamo sul pannello di correzione della lente come sapete abilitiamo sempre la rimozione delle aberrazioni cromatiche e la correzione del profilo della lente per levare questo effetto un po' di vignettatura che si presenta ai bordi scattando con una lente soprattutto grandangolare andiamo sulla funzione trasforma, clicchiamo su auto e diciamo a Lightroom di raddrizzare questa fotografia al meglio vediamo cosa succede, ecco, Lightroom ci ha messo questa fotografia al meglio e possiamo poi decidere noi di dare un taglio a questa nostra bella immagine e magari come sapete a me piace dare sempre un taglio panoramico magari lo lasciamo per il momento così ok, chiudiamo il pannello trasforma, andiamo sul pannello dettagli andiamo a lavorare sulla nitidezza di queste immagini come vedete Lightroom di solito di default dà uno sharpening più o meno intorno a 25 voi potete spingervi se avete scattato a ISO bassi ripeto ISO 64, ISO 100, ISO 200 mantenetevi su valori più o meno tra 80 e 90 soprattutto se è una foto che volete far vedere agli amici o volete postare sul web e non la dovete stampare andiamo sullo slide dell'alluminanza aggiungiamo un valore più o meno intorno a 10 e non dimenticate di utilizzare la funzione masking la funzione masking è molto importante perché ci permette di andare a definire quali parti della nostra immagine vogliamo che vengano affetti dalla nitidezza tenete premuto il tasto alt della tastiera vi spostate verso destra e andiamo a dire a Lightroom che la definizione la deve applicare solamente ai contorni della nostra architettura un valore più o meno intorno a 50 a me sta più che bene ok, chiudiamo il pannello dei dettagli e andiamo a utilizzare il pannello degli effetti creando una vignettatura abbastanza consistente ai bordi di questa immagine quindi mantengo su valori più o meno intorno a meno 37 qualcosa del genere dovrebbe andar bene chiudiamo il pannello degli effetti e andiamo a riaprire il pannello base apriamo il pannello base creiamo un filtro graduato di tipo lineare dall'alto verso il basso con il mouse con il tasto sinistro del mouse lo tenete schiacciato e potete fare un drag and drop quindi tirate giù un filtro di tipo lineare vi ricordo sempre che qui potete spostare il filtro verso il basso o verso l'alto lo potete stringere quindi giocando con le linee praticamente di questo filtro andate a applicare l'effetto in maniera più evidente o un po' più sfumato quindi vi consiglio sempre di giocare con i filtri e provare dei valori che più si addicono alla vostra immagine diminuisco un po' l'esposizione in questo caso qualcosa del genere più 50 ne creo un altro cliccando il tasto new e questa volta lo creo qua in basso e vado anche qui a ridurre l'esposizione per fare quello che io dico chiudere la fotografia quindi per concentrare l'attenzione di chi osserva la fotografia più sulla parte centrale della nostra immagine clicchiamo su done quindi abbiamo già una foto che risulta abbastanza gradevole come bianco e nero e cos'altro vado a creare questa volta dei filtri graduati di tipo circolare ad esempio ne posso creare uno qui per andare un po' più a esaltare i dettagli della nostra architettura questo chiaramente è un esercizio che lascio a voi ragazzi io nel mio tutorial cerco di farlo in maniera veloce per farvi capire come è possibile utilizzare queste funzioni all'interno di Lightroom o anche in Photoshop poi aspetta a voi appunto giocare e decide di spostare questi filtri come meglio credete come più vi piace ragazzi quindi siate creativi e utilizzate questi filtri in maniera creativa aumentiamo l'esposizione ad esempio in questa zona aumentiamo leggermente la chiarezza quindi in questo momento l'effetto viene applicato all'interno del nostro ellisse perché come vi ho già spiegato nei episodi precedenti ho selezionato la funzione sfumatura al 100% e la funzione inverti se non avessi selezionato la funzione inverti l'effetto sarebbe stato applicato all'esterno del nostro ellisse d'accordo ragazzi? questo è molto importante se volete che l'effetto venga applicato all'interno ne creo un altro quindi faccio nuovo ad esempio vado a risaltare un po' più i dettagli della nostra scultura che si trova qui in primo piano quindi aumentiamo sempre più l'esposizione in questa zona magari qualcosa di così è la nostra chiarezza ok magari un qualcosa del genere già risulta più interessante cos'altro? possiamo andare a lavorare sul pannello HSL colore bianco e nero quindi aprite questo pannello e qui avete la possibilità di giocare un po' con le slide ad esempio se cliccate questo piccolo simbolo e vi spostate ad esempio sul cielo come vedete Lightroom vi dice che questa parte verrà modificata se lavorate con lo slide del blu come vedete qui è selezionato se io vado qui Lightroom vi farà vedere giallo, blu, insomma dipende è chiaramente molto sensibile quindi quando mi vado a spostare lui cambierà gli slide del colore canale proviamo un esempio quello del blu se mi sposto verso sinistra cosa succede? spostandomi verso sinistra andrò sicuramente a aumentare i dettagli nelle parti scure del cielo come vedete è una cosa che a me piace in questa fotografia quindi magari mi sposto a valori più o meno di magari meno 56 ok? chiudiamo tutto e la metto a tutto schermo magari vado a vediamo un poco per questa immagine vado a aumentare ancora un po' più il contrasto magari a valori più o meno intorno a 30 e vado a creare un altro filtro graduato questa volta qui sul pancione di questa nostra scultura aumentando sempre l'esposizione mi mantengo a valore più o meno più o meno intorno a 0,60 al momento e aumento anche la chiarezza per appunto saltare di più i dettagli su questa zona della nostra scultura clicchiamo su ok e ragazzi con semplici passi abbiamo realizzato un bel bianco e nero che potete sicuramente provare a fare tutti scattando delle fotografie simili nelle vostre città quando uscite voi andate a fare una passeggiata fuori sono sicuro che trovate degli edifici interessanti o magari delle sculture o dei palazzi o delle strade e potete spizzarevi a utilizzare le tecniche del dramatic black and white che vi ho insegnato anche negli episodi precedenti utilizzando i filtri graduati di tipo circolare e di tipo lineare e giocando col pannello HSL col pannello bianco e nero va bene ragazzi? bene cosa dire? spero che anche questo questo tutorial per per il digital editing su questa fotografia di Parigi vi sia piaciuto continuate a esercitarvi perché presto lancerò un nuovo fotocontest su Instagram dove potete caricare le vostre immagini migliori e dove potete utilizzare il bianco e nero il digital blending potete scattare foto paesaggistico di architettura urbana rimanete con me e vi darò i dettagli nelle prossime puntate grazie sempre a tutti per la vostra attenzione ragazzi e ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti iscriviti al canale